Io credo che quello che abbiamo fatto sia stato importantissimo sia per la nostra carriera, perché comunque è un sogno per ogni atleta, ma appunto come abbiamo ripetuto per tutta la settimana è importante per il movimento del curling italiano che ha bisogno di una spinta, aveva bisogno di una spinta e quale miglior spinta di questa? Sicuramente è una cosa storica questa, anche per la promozione fa veramente bene e speriamo in vista di Milano-Cortina che il movimento si ampli grazie a questi risultati. Io personalmente non pensavo tanto, cercavo di andare in pista e giocare al meglio che potevo giocare, al meglio delle nostre possibilità e giocare partita per partita, non stando a pensare poi al risultato, a quello che succedeva prima e dopo. Questo era il segreto di entrambi, andare là e cercare di performare bene. Concordo anch'io, nei meeting pre-partita comunque certo le nostre analisi erano sia sulla nostra performance, un po' sugli avversari, su quello che sarebbe stato poi la partita, però poi la cosa importante appunto era concentrarsi sulla partita, sul presente, a fare bene i nostri compiti del momento, quindi ogni tiro, ogni spazzata, ogni chiamata e questa è stata la chiave. Siamo partiti subito molto bene, quindi già dopo le prime vittorie il nostro obiettivo principale era quello di accedere alle semifinali, cosa che abbiamo raggiunto essendo imbattuti ed è stato fantastico e ci ha dato la spinta per affrontare poi appunto le ultime due partite, la semifinale e poi la finale oro con tutta la nostra forza, con la grinta al massimo e abbiamo portato questo oro a casa. Sì, anch'io l'ho capito quando ci siamo qualificati dopo le prime sei partite vinte ho pensato dentro di me che potevamo raccogliere una medaglia, anche se poi sappiamo tutti che c'è la semifinale e quella era quella che mi faceva più paura perché rischiando di aver fatto un roba imperfetto, perdendo due partite rischiavi di non prendere neanche la medaglia, ma alla fine siamo riusciti a trovare due belle performance sia in semifinale che in finale e raggiungere questo sogno. Fino adesso nessuno, non avevamo così tanta visibilità e appunto grazie a questo risultato adesso cambieranno tante cose e vedremo quello che arriva. Ha detto bene Amos, non siamo abituati, però comunque sono molto felice personalmente sarà una bella esperienza anche questa, fa parte del gioco e non vedo l'ora di vivere anche quei momenti lì. Sicuramente sentire queste parole è un enorme onore per me perché appunto se lo dice il Presidente Malagò vuol dire che è tanta tanta roba. L'ho sentito prima al telefono e è stato davvero emozionante perché non capita tutti i giorni di avere un Presidente così che ti chiama, sono davvero orgogliosa. Ha chiamato anche me e veramente è motivo di orgoglio e la conferma di quello che abbiamo fatto ed è pazzesco. Io non ho dormito proprio benissimo, sono andata a letto alle 5 di mattina, ho dormito qualche oretta però il sonno veramente non lo sento adesso, c'è troppa emozione e appunto adesso non vedo l'ora di tornare a casa e festeggiare con la mia famiglia, il mio ragazzo, i miei allenatori che sono a casa, i miei compagni, insomma con tutti quanti, tutti quelli che ci hanno supportato e godere ancora di più questo momento. Ma anch'io ho fatto fatica ad addormentarmi, anche però diciamo che mi sono addormentato un po' prima di Stefania, ho preso sonno, anche perché stamattina abbiamo fatto l'allenamento con la squadra maschile e appunto quando ritornerò a Covasa festeggerò sicuramente con tutta la mia famiglia che ha partecipato a raggiungere questo sogno. L'Olimpiade in casa è comunque una cosa che capita una volta nella vita e dopo quello che abbiamo fatto in questa settimana sicuramente ora è difficile guardare già 4 anni in avanti perché è appena finita questo percorso di 4 anni appunto, però sicuramente non vedo l'ora di poter rappresentare l'Italia nuovamente in casa, però questo comporta lavorare duramente altri 4 anni e sicuramente lo faranno anche le altre nazioni e quindi bisogna rimanere sul pezzo. Ma sicuramente noi da questo progetto abbiamo cercato sempre di lavorare in maniera positiva fino appunto ad arrivare adesso, non ci pensavamo sicuramente ad una medaglia perché era qualcosa di, non dico di fantascienza, però il nostro obiettivo prima di partire era cercare di arrivare nelle semifinali e poi siamo riusciti a portare a casa questo. Sicuramente per il prossimo quadriennio bisognerà vedere appunto tante cose dagli allenatori, scelte tecniche, tutte queste cose qua, ma sicuramente io lavorerò appunto per esserci anche a Milano Cortina. La post partita è stato molto frenetico sia perché le emozioni erano a mille e sia perché abbiamo dovuto fare tante interviste, il controllo doping, insomma il tempo di festeggiare non è stato tantissimo però comunque ci sarà tempo più avanti, insomma adesso era anche il momento di tirare un respiro di sollievo e di scaricare un po' almeno da parte mia l'adrenalina che è durata per una settimana. Sì esatto, anche da parte mia tutt'ora ho l'adrenalina, tantissimi messaggi di complimenti dopo la partita e appunto adesso ancora tantissimi messaggi, tante interviste e adesso vedremo cosa succede nei prossimi giorni anche se dovrò restare concentrato almeno per questa settimana con la squadra maschile e il torneo maschile.